Il primo provvedimento di questa natura a livello internazionale, l'Italia è la prima nazione che dice no al cibo sintetico, alla cosiddetta carne sintetica, lo fa con un atto formale ed ufficiale. Credo sia un risultato importante che raccoglie da una parte l'appello di quasi duemila amministrazioni comunali e della gran parte delle regioni che avevano votato nelle loro assemblee degli ordini del giorno, proposti in gran parte sulla base di una raccolta di firme di col diretti e che chiedeva un impegno a vietare sul nostro territorio la produzione, la commercializzazione e l'importazione di cibi sintetici. Ovviamente la norma parte da alcune considerazioni che sono di natura sanitaria principalmente e poi ovviamente il collega Schillaci potrà approfondirle sulla base del diritto di precauzione sancito anche dai regolamenti europei che prevedono di normare qualora l'ambiente o la salute pubblica possano essere messi a rischio o non si abbia una certezza sugli effetti di alcuni prodotti che vengono immessi nel mercato o che rischiano di arrivare sul mercato o al consumo. È evidente che noi da molti punti di vista guardiamo alla tutela della nostra collettività e abbiamo ragionato affrontando il tema della qualità. Prodotti da laboratorio non garantiscono a nostro avviso qualità, non garantiscono benessere, non garantiscono quella tutela anche, diciamolo con orgoglio, della nostra cultura e della nostra tradizione che anche all'enogastronomia, alle nostre produzioni agricole, lega un pezzo della nostra civiltà e del nostro modello. Riteniamo poi che questo fenomeno, se dovesse riuscire ad imporsi sui mercati, cioè la produzione all'interno di bioreattori più simile a fabbriche che a stalle o a luoghi nei quali si coltiva, produrrebbe evidentemente maggiore disoccupazione, anche perché sarebbe ovviamente più conveniente per alcuni, magari produrre in luoghi dove non si rispetta l'ambiente nel diritto dei lavoratori. Ci sarebbero più rischi per la biodiversità, mi sembra evidente che sarebbe meno conveniente investire anche sull'allevamento e la possibilità di sviluppare alcune culture ed alcune attività proprio dell'uomo nell'allevamento. E poi noi vediamo anche un rischio di ingiustizia sociale, un'ingiustizia sociale che in alcune società già esiste con riferimento all'alimentazione, società nelle quali i ricchi mangiano bene e i più poveri invece mangiano cibo di pessima qualità, risentendone anche in termini di salute. Abbiamo una norma che prevede sei articoli, sancisce il divieto di vendita, di commercializzazione, di produzione, di importazione e ovviamente quelle che sono le sanzioni anche molto rigide per chi dovesse violare queste norme. Non c'è da parte nostra evidentemente alcun tipo di atteggiamento persecutorio, ma c'è un atteggiamento di forte volontà di tutela dei cittadini e delle persone che consumano. Abbiamo personale esperto, i nostri carabinieri, l'Ispettorato del Controllo Qualità e della Repressione Frodi, la Guardia di Finanza e l'Agenzia delle Dogane e i Monopoli che attenzioneranno tutte le violazioni e le eventuali disapplegazioni di questo intervento normativo che tutela, ripeto, la salute, che tutela la nostra produzione, che tutela il nostro ambiente e che tutela evidentemente anche un modo di vivere del quale continuiamo ad essere orgogliosi e che connette la produzione del cibo nel rapporto tra uomo, lavoro, territorio e allevamento. Questo tipo di definizione pone questa legge all'avanguardia, a nostro avviso, verso un mondo che resti civile e in linea con quello che è stato lo sviluppo dell'umanità. Passo la parola al collega Schillasci. Grazie. Come diceva il Ministro Lobrigida, questa è una legge particolarmente significativa. A sei articoli c'è un divieto generale di produzione, utilizzo e emissione sul mercato di alimenti sintetici per gli operatori del settore alimentare e dei mangimi. Ribadiamo che si basa sul principio di precauzione. Questo è molto importante perché oggi non ci sono evidenze scientifiche sui possibili effetti dannosi dovuti al consumo di cibi sintetici e disciplina poi le possibili violazioni. Io credo che sia molto importante e significativo ribadire il massimo livello di tutela della salute dei cittadini e anche preservare il patrimonio agroalimentare della nostra nazione. Il Ministero della Salute ha un'attenzione costante alla sicurezza degli alimenti, ha un'attenzione costante alla sana ed equilibrata nutrizione e all'adeguadezza alimentare. E permettetemi anche in questa sede di ribadire come l'Italia vanta una cultura agroalimentare che si basa sulla dieta mediterranea e che io amo definire italiana. Una dieta che apporta in maniera sana, equilibrata, bilanciata tutti i nutrienti e protegge anche dall'insorgere di molte malattie. Diminuisce i fenomeni infiammatori, riduce i marker di stress ossidativo e di rischio cardiovascolare. Grazie. Nome e cognome testata, per cortesia. Buonasera, Valentina Nicolì di Agricola. Volevo sapere le sanzioni specificamente, grazie. La distribuiremo il testo di legge in modo tale che vi siano chiari, sono previste all'articolo 4, prevedono sanzioni che vanno da un minimo di 10.000 euro fino ad un massimo di 60.000 euro, fino al 10% del fatturato anno realizzato nell'ultimo esercizio. Non entro nei dettagli, ma ovviamente poi intervengono anche, qualora non si sviluppano ulteriori reati, sul sequestro del materiale prodotto e tutta un'altra serie di attività che riguardano l'azienda che dovesse promuovere in violazione della norma un'attività in relazione a quanto prescritto nell'attuale norma, che ovviamente passerà in conferenza delle regioni e al vaglio del nostro Parlamento, ma che da oggi mette in condizione i nostri cittadini di avere una maggiore tutela rispetto a una criticità che, ripeto, sembra lontana, ma che vede in altre nazioni in maniera surrettizia aver inserito questi prodotti nell'alimentazione, a volte in modo consapevole, forse altre in modo inconsapevole sui piatti di persone nell'ambito della ristorazione. Giacomo Salvini del Fatto Buonasera, volevo fare due domande rapidissime al Ministro Lollobrigida, passo su un tema di cui vi siete occupati anche nel Consiglio dei Ministri, visto che rappresentate il Governo, appunto volevo chiedervelo. La prima sul PNRR, ieri appunto il Governo si è preso un mese in più di tempo, l'Unione Europea, insieme al Governo per la verifica sulla terza rata, volevo chiedere se pensate che con il Governo precedente l'Europa era stata più indulgente sulle rate del PNRR rispetto al vostro e l'altra invece volevo chiedere sui migranti, visto che il Ministro Lollobrigida si è occupato molto del decreto flussi anche nel Consiglio dei Ministri di Cutro, ieri la Lega ha presentato diversi emendamenti per cambiarlo molto, quel decreto, soprattutto restringendo le maglie dell'accoglienza. Volevo chiedere se quel decreto va bene così come è stato approvato, è una giusta mediazione, oppure si può accogliere le richieste e la Lega di restringerlo ancora. Scusate il fuoritema, grazie. Vi andrei per ordine e quindi ovviamente la prima vicenda di cui è appena trattato sul decreto flussi. Ci sono state molte domande attraverso i click day che dimostrano che c'è volontà di avere lavoratori che arrivino legalmente e in sicurezza, saranno, anzi, deve essere l'indirizzo corretto, deve essere chiaro a tutti che più immigrazione illegale e clandestina c'è, meno si riescono a organizzare flussi corretti, perché le capacità di accoglienza e di integrazione debbono essere una priorità e su questo stiamo lavorando. è in corso e raggiungeremo i colleghi la cabina di regia sul PNRR e quindi credo di poter dare, o magari il collega Fitto potrà dare, delucidazioni più puntuali su quelli che sono gli esiti che evidentemente nella cabina in questione si stanno rendicontando in maniera più attenta. La terza questione, quella delle attività parlamentari, ovviamente anche nel mio ruolo da parlamentare parteciperò, ma è del tutto naturale che se c'è una discussione in Parlamento quello è il luogo idoneo per stabilire quali siano gli emendamenti che è utile far passare o quelli che non sono necessari o sono superflui. Ma nel rispetto dell'attività parlamentare non sarò in una conferenza stampa del Governo io a dare indicazioni. Maria Elena Ribezzo di Geo. Sì, grazie. Approfitto della presenza di entrambi i ministri per chiedere, diciamo, evoluzioni sull'etichettatura dei vini perché stiamo attendendo il parere del WTO se dovesse dare il via libera che cosa intendete fare in Europa? Ovviamente oggi sono con il più adorevole esperto di sanità all'interno del Governo. Io lo ritengo tra i più adorevoli in assoluto a livello non solo italiano e quindi dal punto di vista sanitario può certamente dare e lo farà anche all'interno di un convegno in cui tratteremo del vino la settimana prossima a Verona per cercare di affrontare il vino nella sua complessità. Il vino è un prodotto che a mio avviso è fondamentale può essere assunto in maniera equilibrata in maniera moderata rispetto a qualsiasi abuso noi siamo contrari non solo del vino ma di qualsiasi prodotto riteniamo allo stesso modo però che invece vada difesa la possibilità di non stigmatizzare un prodotto che sicuramente non fa male assunto con moderazione e a mio avviso fa anche bene se è assunto con moderazione e lo dico da Ministro dell'Agricoltura ma dopo aver chiesto anche al professor collega Ministro Schillaci e a tanti altri scienziati e medici che mi hanno confermato questo tipo di indirizzo. Detto questo abbiamo attivato non da soli ma insieme ad altre nazioni tutte le possibilità di contrasto rispetto a una scelta dell'Irlanda a nostro avviso che prefigura una palese violazione dei trattati europei e che stigmatizza un prodotto del quale l'Irlanda oltretutto è priva che è il vino non solo il vino evidentemente ma in particolare il vino che si distingue anche a mio avviso lo devo con chiarezza da tanti altri tipi di alcolici compresi distillati con altissime gradazioni alcoliche che le distinguono dal vino invece che ha una gradazione alcolica tra i 6 e i 15 gradi e che significa una presenza di alcol all'interno delle bottiglie che invece vedono polifenoli, vitamine, tannino e tanti altri prodotti che oggettivamente invece sono portatori di benessere. Oggi ho visto il collega ministro Fennot francese qualche giorno fa ho visto il collega Planas spagnolo abbiamo già sottoscritto un documento che ha visto l'adesione di tante altre nazioni europee e c'è diciamo una grande sensibilità nella difesa di un prodotto di eccellenza e tutto quello che è collegato al vino come prodotto come lavoro come cultura e anche come complessivamente una possibilità di promuovere un territorio a Verona presenteremo all'interno di Vinitaly tutti questi aspetti compreso io ritengo che sia di notevole interesse anche dal punto di vista culturale un aspetto legato al vino nella storia che è presente sulle tavole di centinaia di milioni di persone da millenni e questo è anche testimoniato da opere d'arte come quelle che mostreremo e io ringrazio anche il collega San Giuliano che da questo punto di vista è stato preziosissimo perché esporremo a Vinitaly proprio a simboleggiare la qualità anche dell'arte che ha descritto questo fenomeno un quadro del Caravaggio raffigurante bacco e un quadro del Guido Reni raffigurante bacco fanciullo Claudia Fusiani del riformista c'era il collega Schilassi la scuola è quello che ha detto il ministro Lollobrigida come dicevo prima il vino soprattutto rosso in modiche quantità fa parte della dieta mediterranea italiana che noi promuoviamo con effetti riconosciuti benefici antiossidanti come prevenzione delle malattie cardiovascolari il problema della righettatura nasce dall'Irlanda io ho avuto modo di parlare con il ministro della salute irlandese hanno un grave problema di alcolismo soprattutto nelle fasce giovanili della popolazione ma questo riguarda essenzialmente i super alcolici e altre forme di alcol quindi credo che la nostra posizione sia chiara e soprattutto di promozione di una dieta che ha sicuramente degli effetti benefici riconosciuti anche dal punto di vista della salute Claudia Fusani di Riformista sì buonasera grazie dunque voi avete fatto un consiglio dei ministri molto ricco oggi e in realtà ci sarebbe da fare molte domande cerco di essere sintetica la prima volevo capire per quello che riguarda il decreto bollette gli oneri di sistema sono stati riportati in bolletta sì o no perché l'associazione consumatori dice che sono tornati leggendo per quello che si può capire il testo pare di no e volevo chiederlo a voi ovviamente la seconda sul codice degli appalti ne avete approvato uno nuovo anche qui ci sono alcune associazioni di categorie che dicono che questo codice confligge con il decreto semplificazione che è il senato e volevo anche qui capire come funzionava la cosa e poi per quello che riguarda l'esilio di legge sulla concorrenza anche avete approvato oggi che fine hanno fatto le norme sui balneari sul catasto e sui taxi grazie non voglio diludere la pregevole Fusani ma noi siamo qui per rappresentare in particolare una norma che è una norma a nostro avviso fondamentale tutte le norme approvate oggi sono importantissime questa devo dire a mio avviso ha un impatto altrettanto importante ma riteniamo che i colleghi avranno modo di rappresentare al meglio e di entrare nel merito delle loro specifiche deleghe che oggi come è evidente non sono qui rappresentate né da me né dal collega Schillacci quindi nelle prossime ore ritengo avrete tutte le delucitazioni possibili e soprattutto le avranno attraverso voi anche i nostri cittadini io credo che per rispetto della capacità e dell'operatività dei nostri colleghi oltretutto su provvedimenti molto rilevanti credo uno dei due abbia circa 242 articoli è evidente che un'informazione completa possano darli coloro che hanno avuto modo di approfondirle sotto ogni aspetto e anche a secondare quella che è la vostra legittima volontà di conoscerli appieno e di quindi poterli trasferire in maniera corretta non siamo tuttologi siamo un governo che lavora in squadra che lavora in maniera sinergica su tutte le questioni che ci riguardano affrontiamo i temi in sinergia ma non è detto che sappiamo tutti spiegarli nella maniera più idonea quindi io non voglio essere troppo modesto ma nemmeno immodesto non preferisco su questi temi lasciare che i miei più autorevoli colleghi e più preparati sui temi possano darvi tutte le delucitazioni del caso in appositi momenti di comunicazione su quei temi e dedicare questo invece a temi che riguardano le nostre deleghe specifiche se non ci sono altre domande sì ce n'è una o l'ultima laggiù in fondo che poi chiudiamo grazie nome e cognome testata grazie Dario Martini il tempo volevo sapere che tempi ci sono per il decreto siccità doveva andare in consiglio dei ministri probabilmente questa settimana ancora non c'è andato è un problema per trovare la figura del commissario ci sono altri nodi da sciogliere no c'è un lavoro molto attento molto puntuale di diversi ministeri noi purtroppo abbiamo avuto una serie di criticità e una serie di sovrapposizioni di competenze nel tempo e quindi un governo che intende agire nella maniera più corretta possibile deve farlo in fretta e rispetto ai decenni di immobilismo sul tema che ci hanno condotto a questa situazione che ha un epifenomeno nella emergenza che rischiamo di avere durante il periodo estivo ma che evidentemente è frutto di eventi ormai ciclici quinquennali da almeno 20 anni sono emerse dalle nostre analisi una serie di problematiche e di criticità che devono essere affrontate con una semplificazione normativa sul breve periodo e anche la capacità di riuscire a ordinare i tanti soggetti che si occupano e che devono in questi giorni stanno facendolo spiegare quali sono state le problematiche che gli hanno impedito a volte di portare a compimento quelli che erano i loro compiti specifici per riuscire ad assicurare una migliore fruizione di uno dei beni più preziosi che abbiamo che è l'acqua nel contempo abbiamo anche aperto un ragionamento con esperti non solo nazionali ma anche internazionali per suggerire ipotesi di lavoro che ci permettano anche di normare con riferimento a un approccio sistemico che ha già avuto esiti positivi ho avuto modo la settimana scorsa di incontrare Alon Bar ambasciatore israeliano con il quale ci siamo confrontati e a lui anche ho chiesto di suggerirci delle soluzioni che loro hanno messo in campo per esempio sull'utilizzo delle acque reflue e quindi della possibilità di sviluppare con piena tutela della salute pubblica e dell'ambiente un corretto utilizzo dell'acqua senza disperdere nulla di quello che può essere utilizzato sia fin industriali ma anche con dovuti modi per utilizzi agricoli per alcune culture bene grazie a tutti per aver partecipato buona serata grazie a tutti